Eh signorine! Sono molto contento, sì, perché alla fine già la mattina quando mi vedono arrivare mi riconoscono, io le applo qua, le faccio per scolare nell'erba e poi quando rientro dentro il laghetto per dargli a mangiare mi seguono, entrano sole e sole. Quante ce n'è adesso? Adesso dovrebbero essere un 5 occhi e un 13 anatre, ma poi contenta la gente, tutti i giorni venivano le mamme con i bambini, i bambini le portavano i creche, si giocavano, cioè è una cosa bella per tutti, venivano tutti a trovarli, a portarli anche da mangiare. Molto il dito, molto il dito, questo è il guardiano del laghetto, si, è il guardiano del laghetto questo, non è mai andato via lui, no, le porto da mangiare io, le porto le crocchette di bucconcini di carne, eh, guarda qui, eh, molto. a a